Sentite, la musica ci accompagna anche perché oggi vogliamo parlare di prima colazione, di una sana prima colazione. Quali sono gli alimenti che dobbiamo mettere sulla nostra tavola? Tanti consigli utili ci darà la dottoressa Federica Mastronardo. Benvenuta. Grazie. Dottoressa, biologa, nutrizionista e ricercatrice. Allora, dottoressa, andiamo subito. Penso che sia la domanda delle domande, perché molti di noi saltano alla prima colazione oppure prendono un caffè al volo e corrono subito, per mancanza di tempo, oppure perché magari seguono un regime alimentare particolare. Ma perché voi dite che la prima colazione è il pasto più importante della giornata? Perché la scienza parla chiaro e la ricerca in tanti anni ha sempre dimostrato quanto chi fa una buona prima colazione mantiene meglio uno stato di salute ottimale nel tempo. È chiaro infatti che dare subito un buon apporto di macronutrienti, di micronutrienti al nostro organismo porta tanti benefici. In primis il mantenimento del peso corporeo, ma più che altro della massa magra, che è la parte buona del nostro corpo, quella che ci mantiene in salute, dove per massa magra intendiamo organi interni, ossa, muscoli, tutti i tessuti metabolicamente attivi. Quindi vanno sostenuti nelle prime ore del mattino, anche perché in quell'orario lì ci sono più ormoni anabolizzanti. Ana in greco vuol dire costruire, quindi è un ricostruire, continuamente rigenerare i tessuti dopo la notte. Dopo la notte. Parliamo anche di orari. Si parla molto spesso di crononutrizione. L'orologio biologico, hanno vinto anche un Nobel per la medicina, la scoperta dell'orologio biologico. A che ora dovremmo fare colazione, dottoressa? Per il motivo che ho detto poco fa, comunque c'è una fascia oraria da rispettare che non dovrebbe mai superare le 9, le 9.30 di mattina. Però per essere più precisi bisogna sempre fare attenzione all'orario della cena della sera precedente, perché la strategia vincente è quella di far passare un tempo giusto di almeno 12 fino a 14 ore tra il pasto precedente alla colazione. Questo significa fare attenzione all'orario in cui noi andiamo a cena, finiamo e consumiamo la nostra cena che deve essere comunque più leggera rispetto alla colazione, per dare un tempo metabolico giusto al corpo di smaltire e assimilare quello che abbiamo comunque ingerito, considerando che per digiuno non chiamerei questa fase un vero e proprio digiuno, ma soltanto una pausa metabolica. Ricordiamo che gli ultimi studi dell'American Heart Association ha detto che il digiuno è intermittente, perché una sorta di digiuno intermittente dalle 14 a 16 ore addirittura affiaticherebbe il cuore, per cui bisogna fare anche attenzione a questi elementi che arrivano da questi ultimissimi studi della società americana. Però noi non ci fermiamo qua, proprio perché appunto, come ha detto la dottoressa, la prima colazione è il pasto più importante e molti di noi per mancanza di tempo non la fanno, oppure magari possiamo consigliare di alzarsi 10 minuti prima, ma di fare una lista anche della spesa. Allora, quali sono gli alimenti, dottoressa, che noi dobbiamo mettere all'interno del nostro carrello della spesa? Sono tanti, ma la regola principale è mettere soprattutto i tre gruppi di macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi. Carboidrati intendiamo i cereali integrali non raffinati, quindi una quota sana di cereali integrali va presa al mattino perché ci dà energia, è un'energia immediata anche a livello mentale perché ci piace, è anche un po' una sensazione di dolce che comunque non deve mai mancare. Ma le componenti fondamentali, i macronutrienti fondamentali della colazione sono le proteine e i grassi, ovviamente sani. Proteion in greco vuol dire principale, quindi è normale che la parte proteica, che molto spesso è sottovalutato in chi appunto si approccia anche a cambiare e a variare la colazione, è fondamentale per il discorso che facevo poco fa, per ricostruire bene i tessuti. E i grassi ci danno sazietà, quindi grassi giusti. Sia dolce che salato, perché abbiamo visto, abbiamo letto una lista, gli alimenti davvero preziosi, poi lei ci aiuterà anche a comporre, a dare delle idee per una sana prima colazione, ma le bevande non devono mancare, no dottoressa? L'idratazione è importante, che tipo di bevanda dobbiamo bere quando ci svegliamo? Andiamo anche un po' a gusto e abitudine. La bevanda tradizionale è il caffè o il tè. Possiamo dire che il tè o il caffè sono sostanze nervine, quindi sostanze eccitatorie che comunque vanno a stimolare subito il sistema nervoso e ci danno una sensazione di energia immediata. Sensazione di energia, quindi non sono energizzante perché l'effetto è transitorio e diciamo anche che sia il tè che il caffè hanno caffeina e teina che sono le stesse tipo di molecole, quindi c'è da fare una precisazione. Chi non beve il caffè dicendo appunto magari mi eccita troppo, mi dà tachicardia perché aumenta il battito cardiaco, eccetera, non è che il tè non faccia la stessa cosa, ma comunque ha degli effetti benefici perché ci aiuta a svegliare meglio un po' tutto il corpo. Il tè e il caffè sono anche ottimali perché comunque contengono tantissimi antiossidanti e molecole buone. È chiaro che oltre a queste bevande l'importante è in generale l'idratazione, quindi bere perché veniamo dalla notte, siamo più disidratati, quindi anche delle tisane calde a caloriche, quindi senza calorie aggiunte, senza zuccheri, senza dolcificarle, ci possono aiutare per esempio a far passare questo famoso lasso di tempo delle 12 ore. Molto spesso le persone mangiano e cenano tardi la sera, quindi non riescono ad arrivare alle 12 ore. Un'idea è quella di alzarsi, bere una tisana calda, senza zucchero, per abituare anche gli organi alla colazione e poi affrontare la colazione. Altre bevande possono essere le bevande di latte, che non sono latte, ma sono bevande vegetali, le più note sono la soia, l'avena, la mandorla. Ovviamente va un po' a gusto e anche attenzione perché molto spesso il latte di mandorla contiene comunque degli zuccheri, la soia può dare allergia e comunque la soia è un estrogeno naturale, quindi va presa con moderazione mai tutti i giorni. Quella che per eccellenza rimane la bevanda più sana è il latte di avena, perché l'avena ha delle proprietà nutrizionali anche per il microbiota importanti. Parliamo di caffè, che è la bevanda più amata dagli italiani, forse sicuramente, insomma in tutto il mondo si beve tanto caffè. Io quando mi sveglio lo devo bere assolutamente, magari aromatizzato con un po' di cannella, lo so che molti di voi magari storceranno un po' il naso perché la cannella con il caffè, ma dovete provarci, vi assicuro che è molto meglio dello zucchero. Torniamo perché sul caffè si sta studiando, sono anni che si studia il caffè e allora come dobbiamo metterlo all'interno della nostra prima colazione per sfruttarne tutte le proprietà benefiche? Dunque non zuccheriamolo perché il caffè va bevuto... La cannella è un'ottima idea? La cannella è una questione di gusto, quindi se piace il sapore sì, anche perché la cannella abbassa la glicemia degli alimenti in generale, quindi unendola a una colazione che contiene anche una quota, seppur integrale, di cereali è una cosa che si può fare. Il discorso del caffè va preso anche sotto questo punto di vista, è soggettivo perché oltre al gusto si è visto scientificamente che la caffina viene metabolizzata in maniera molto soggettiva dalle persone che la consumano, quindi bisogna vedere noi che tipo di effetto abbiamo quando beviamo un caffè, due o tre, anche nell'arco della mattinata, sul discorso dell'ansietà, di avere magari più agitazione e la diuresi, perché la caffeina lega l'acqua, quindi accelera e aumenta l'effetto diuretico su di noi di quello che beviamo, quindi attenzione se vediamo che bevendo tè o caffè, ma soprattutto il caffè e soprattutto il caffè americano, quello allungato, perché come molecola la caffeina lega l'acqua, quindi nel caffè allungato abbiamo un concentrato di caffeina maggiore e automaticamente ci può stimolare talmente tanto la diuresi che da linea guida dovremmo bere un caffè ma subito dopo almeno tre bicchieri di acqua per evitare la disidratazione. Se ci sentono i napoletani qui chiudiamo perché l'acqua deve essere bevuta prima della tassina e non dopo, allora vabbè però qui è la scienza che parla, non parliamo noi. Allora ci aiuti adesso a comporre una colazione perché abbiamo visto tanti ingredienti, tanti alimenti, come li componiamo sia la versione dolce sia quella salata, dottoressa? La versione dolce e salata è sempre una questione di palato perché abbiamo detto dobbiamo fare attenzione a unire bene i macronutrienti, quindi la parte di cereale integrale io considero sempre e consiglio il pane di segale o il pane integrale, quindi un pane che riesca ad avere un buon sapore, ci dà comunque sazietà e si accompagna bene sia una parte, una componente dolce che salata. Per quanto riguarda la parte dolce possiamo unire sempre la componente dello yogurt, ricordiamo che l'importanza della prima colazione è anche di nutrire il microbiota, il microbiota è quella popolazione di batteri buoni che sono all'interno del nostro intestino e che ci danno protezione a quelli che sono gli attacchi di agenti patogeni esterni quali virus e batteri, quindi la mattina vanno aiutati. Allora tutti gli alimenti fermentati tra cui lo yogurt e il kefir ci danno sia sazietà e sia nutrimento perché soprattutto lo yogurt se è greco, se è intero, non zuccherato ci dà una buona dose di proteine e di grassi, lo possiamo unire o con il pane o con i cereali per esempio i fiocchi d'avena sono l'ideale o anche il kefir considerando che il kefir è un postbiotico quindi non un probiotico, cioè i batteri hanno già metabolizzato il lattosio, hanno in qualche modo si sono stabilizzati, quindi io consiglio sempre di bere prima due dita di kefir a digiuno e poi fare una colazione volendo anche a base di yogurt. Per quanto riguarda dolcire il tutto... Sia kefir sia yogurt. Sì, è la quantità che conta, prima a digiuno il kefir e poi magari fare una piccola colazione con lo yogurt greco e mettere dentro i fiocchi d'avena e io ho indicato l'uva sultanina perché l'uva sultanina a volte non viene molto spesso nominata, invece ha un quantitativo di antiossidanti fortissimi con tutte le cose rosse e colorate, energia, lo stato puro ci toglie la voglia di zucchero anche durante la giornata e ci dà sazietà e quindi la consiglio soprattutto per chi ha giornate molto dinamiche. Parlando sempre di dolci, marmellata o miele perché è sempre questo un po' il dilemma o la richiesta. Io la marmellata non la tolgo dalle alimentazioni perché so che piace. Ricordiamo che la marmellata di agrumi è l'ideale perché contiene il 20% di agrumi e gli zuccheri sono più bassi, soprattutto quella di arancia amare perché la parte amare è data dalla scorza. Però è chiaro che a livello nutrizionale il miele è fondamentale perché il miele sì ha zucchero ma allo stesso tempo tutti gli antiossidanti contenuti nel miele ma soprattutto le molecole antibiotiche, antinfiammatorie e naturali del miele sono l'ideale. E tra l'altro il miele ne esistono tanti tipi, quindi io suggerisco sempre di provare per esempio il miele di castagno, un miele molto energetico e anche proteico, se piace ne basta poco e d'inverno dà tanta energia. Il miele di acacia che sappiamo avere tante proprietà naturali o per esempio il miele di manuca che è il miele neozelandese che io sempre diciamo aiuto le persone. Un'idea al volo dottoressa perché siamo in chiusura salata, la colazione salata perché per gli amanti del salato. Allora mettiamo sulla nostra fetta di pane integrale o di segale magari dell'olio perché è la prima cosa che è sempre olio, magari un po' di pomodoro. L'avocado io lo considero comunque un alimento volendo salato ma anche le uova, gli albumi perché è importante la parte anche di sazietà e di vitamine ma anche degli affettati magri con moderazione ma si possono prendere tipo bresaula, offesa di tacchino. Grazie la dottoressa Mastronardo, grazie per questi consigli adesso io mi sposto e saluto.